Il mondo per questa meravigliosa sintesi fra fede, ragione e vita. Allora voglio partire da questa ultima espressione di vita. La nostra vita, la nostra esperienza di vita, che ha meravigliosamente messo a fuoco Sant'Avostino, è una ricerca della felicità. Dicendo che la vita cristiana, la formazione infinita, significa che è una risposta a quel bisogno di felicità che c'era in cuore umano. E in tanta parte se noi dovesse analizzare le motivazioni del nostro agire, noi vediamo che in tutte le cose non cerchiamo la felicità. Certamente la felicità è una parola grossa, però infatti Paolo VI ci aveva insegnato anche a utilizzare le piccole giorni della vita. però anche cercando le piccole giorni della vita, la resta sempre sullo sfondo una fata di felicità, che poi è il fanno di amore. Perché l'esperienza ci dice che l'esperienza dell'amore, la pienezza dell'amore, la rende un po' felice, ma sulla terra forse c'è esperienza di amore, questa plana limitata e per sua natura esposta alla fragilità della condizione umana. E quindi molte volte sono di tragedia, molte volte inappagante, e per cui rimane sempre quella fata di perfetta di felicità che si pone nel suo cuore. Se noi diciamo il giore di San Francesco, e vediamo come San Francesco, per dialogare con i suoi frati, insegniamo a loro a cercare la perfetta litigia delle piccole cose del giorno, cioè trovare l'assoluto del foramento, la perfetta litigia, cioè con la gioia che è inattaccabile, con la gioia che non è illusoria, in quanto appunto è tipico delle illusioni, tradursi in lettare delle delusioni, e che forse comunque anche resistente al tempo, resistente diciamo alla collagione del tempo, ma anche a risidio del male. Questa perfetta litigia rimane sempre nel fondo del cuore dell'uomo e nel continuo il motore della sua vita. Noi tuttora la vita serviamo la perfetta litigia, la felicità piena, inattaccata in assoluta. Osserviamo l'amore, l'amore appagante, che però sia una pienezza che non ha fine. E infatti Sant'Austino, giustamente, diciamo, si formuando parole, nella più della sua esperienza, dice, il nostro cuore è quieto, che non la riposa in te. Quindi il cristianesimo, e questa simposità alla fine della vita, noi creiamo, colui che ci dà la gioia perfetta. Perché ci dà la gioia perfetta? Perché ci dà l'amore perfetto. Da dove viene questo amore perfetto? Questo amore perfetto viene da Dio, da Dio che è amore. E questo amore ci viene dato da Cristo, che si è fatto nuovo dal suo cuore, scopre quell'amore che è per l'acqua, che lo disseta, che ci faccia pregostare con la felicità, più naturalmente, più naturalmente, che abbiamo nella vita eterna. Dunque, questa era di cristiana, questa è anche la morale cristiana, sulle quali non si presentasse con la morale cristiana, come la prendo semplice dei comandamenti. Anche perché Gesù Cristo ha sintetizzato i suoi comandamenti, nel comandamento dell'amore, ma il comandamento dell'amore è un comandamento che sollecita e che viene incontro ai bisogni del nostro cuore. Quindi questo è il senso del nostro libro, cioè facentare la vita cristiana come sintesi fra fede, come sintesi fra fede, orale e dignità, in modo tale che venga soddisfatto con il tesi di amore e perfetto, che c'è nel nostro cuore. Mi sembra che in poche parole veramente vi è assunto un programma straordinario per questo libro e dunque va all'alena di cominciare proprio su uno dei temi che a mio parere sono batidari, essenziali, condannatari, pensate che i nostri appuntatori lettori sia così. La domanda più risentare che mi viene dopo quello che ti ho detto, che però ritengo, come dicevo, anti-essenziale, e allora che cosa significa essere come spesso si sente dire un uomo cristiano, tra virgolette o senza virgolette che sia, che cosa vuol dire riuscire a vivere in campo nella vita quotidiana questa esperienza dell'essere cristiano? Beh, intanto io comincerei a compiere che la risposta sia contenuta nella domanda nel senso che il cristiano viene da Cristo non possiamo assolutamente descrivere il cristianesimo senza fare riferimento alla persona di Cristo anzi, vorrei dire che il cristianesimo è la persona di Gesù Cristo e questo noi dovremmo capirlo un po' di più perché ci sono molti cristiani per i quali essere di bravi cristiani significa che vengono in Dio ma non fanno un riferimento diciamo così diretto fondamentale centrale alla persona di Gesù Cristo ma dimentichiamo che anche in tante persone che non sono cristiani credono in Dio anche se non ovviamente non è Dio della liberazione non è il vero Dio che Gesù Cristo ci ha rivelato però anche in musulmano un musulmano crede in Dio nell'unico Dio ma anche non è un giameca anche in ebrei ma comunque anche nelle religioni asiaticche nelle religioni antiche insomma anche nelle religioni potremmo dire nazionalistiche degli ultimi secoli qui in Europa c'è un riferimento a Dio allora indubbiamente noi incominciamo la nostra professione di fede dicendo credo solo Dio poi però subito suggiungiamo un padre potente creatore del cielo della terra è Gesù Cristo e credo nello spirito santo cioè Dio santissima trinità Dio ti eserciò e ti diamo un figlio sulla terra quindi in sostanza in ultime istanze le persone che vediamo non si invitiamo a credere in Dio ma che vediamo che Dio è amore e crediamo che Dio sia fatto uomo e crediamo che Gesù Cristo è il figlio di Dio che è venuto per salvarci allora Sabello se il cristianesimo è a relazione a Gesù Cristo dobbiamo interpretare il cristianesimo alla luce di Gesù Cristo ed è proprio Gesù Cristo che ci ha detto che ci ha detto con le sue parole e ci ha illustrato con la sua vita che la religione cristiana cioè con la religione che è quella di Cristo è proprio Gesù cioè non è facile o è felice infatti Gesù quando parla delle due strade la via larga che porta la perdizione molti sono quelli che furono per essa e poi parla della via stretta che porta che porta la salvezza è una via aerta è la via che sappiamo del Calvallo la via della Croce ma è quella che porta alla risurrezione Gesù stesso ha detto che la vita cristiana consiste nel segno la sua vita è stata una vita come sappiamo sulla terra una vita laudiosa una vita perseguitata una vita sofferta anche una vita gioiosa perché Gesù nell'ultima cena quando diceva la passione pregava il padre perché i suoi discepoli avevano anche loro quella gioia che lui aveva nel cuore quindi il cristianesimo è è diciamo questo impegnativo impegnativo ma soddisfa la nostra gioia di Cristo perché è se quella di Cristo è uguale appunto ha vissuto la sua vita come percorso che porta al Calvario quindi portando la croce che porta all'estremo sacrificio perché si fonde poi nella gloria e nella risoluzione allora cosa vuol dire essere i buoni cristiani i buoni cristiani è un uomo dittatore di Gesù Cristo e cercare di ridere nella nostra vita quello che Gesù Cristo ha vissuto il suo amore per il padre il suo essere figlio del padre il suo essere frappi e trattati vivere se vogliamo dire parole molto povere della pienezza e del comandamento dell'amore amore per Cristo assolutamente ogni cosa e per i nostri fratelli come noi stessi questo è quella vita cristiana però questa dovrei dire che questa invitazione di Cristo presuppone una conoscenza di Cristo perché se non si conosce non lo si ama questa conoscenza di Cristo è sicuramente una conoscenza che si ha mediante la fede perché senza la fede non si conosce Gesù Cristo ma la fede la saldimenta con la parola di Dio e di Greccio e di Vangelo e di Masticando le parole di Cristo cercando di contemplare la sua santa umanità perché già come Gesù Cristo è un uomo noi contempliamo la bellezza e la grandezza del padre e poi diciamo mediante quindi anche di Masticare come diciamo di Pagli del deserto le parole di Cristo della nostra vita e poi ovviamente dialogare con Cristo incontrare Cristo nella preghiera aprire il cuore a Cristo nella preghiera come ci dice anche la Virginia della pace donare il cuore a Cristo perché il suo cuore il cuore di Cristo il cuore di Maria i nostri cuori sia un suo cuore di pace quando c'è questa unità di cuore noi riflettiamo la nostra vita Gesù Cristo quindi bisogna la sua passione ma anche la sua gloria la sua sofferenza ma anche della sua gioia perciò diciamo il cuore cristiano è un cuore di Cristo che vive il mistero della croce della morte applicato e vive il mistero della resurrezione la vita nuova le tappe della vita cristiana sono scambite dai sacramenti è un qualcosa che veramente nel cristianesimo ha dato un input nuovo perché è la contraria questa che non è qualcosa che a più una volta per sempre ma è un cammino un percorso da fare con degli incianti con delle cadute con delle rialzate con tanti elementi che la contraddistinguono ed è veramente un qualcosa che umanamente parlando risulta geniale questa scelta di vivere la vita sul lungo appunto un percorso scandito dagli sacramenti che sono sette come ovviamente saranno i nostri ascoltatori lettori e che ognuno ha un riferimento preciso momento di distanziale qualcuna scrittura felicemente ha indicato questi sacramenti con una frase che dice che sono la manifestazione della vicinanza dell'amore divino nei riguardi della fragilità umana allora a tua parere qual è il significato che si può sintetizzare rispetto a sacramenti in che cosa in complesso consistono questi sette sacramenti qual è il motivo che in qualche modo regge ancora oggi tutta l'intuizione della vita cattolica che questi punti termini della vita del testiano valgono in ogni epoca della storia dell'umanità intanto qualcuno si potrebbe chiedere come mai cominciamo con il Paestro con i sacramenti che stiamo ancora parlando appunto cos'è la vita cristiana in generale allora sono molto semplici è che tutti noi siamo diventati cristiani venivano esseramente e se vogliamo anche guardare la nostra storia personale o se vogliamo magari si è dimenticata riguarda la storia della sua famiglia dei suoi figli dei suoi bambini noi vedremo come i bambini che vi andiamo nelle famiglie fanno un percorso di vita cristiana cioè crescono dalla vita cristiana e rimetono le radici e rimetono le radici nella vita cristiana come un piccolo albore come un piccolo albore di sena come un piccolo seme all'inizio poi piantare poi vediamo anche i nostri figli che crescono dalla fede e crescono dalla vita cristiana altra persona generale dei sacramenti quindi il bambino dopo qualche settimana dopo qualche quattro preparazione io vi dico un mese che diceva il sacramento del bambesimo non si può parlare assolutamente di cristianesimo di vita cristiana senza il sacramento del bambesimo e per quale motivo perché la vita cristiana comincia con la fede cioè la fede la fede la fede la fede che qualche di professione che credo la fede che non possiamo sintetizzare la fede di Gesù Cristo fede di Dio il nostro salvatore questa è la fede che salva questa aderendo come dice San Paolo con la mente con le labbra e con il cuore a questa professione di fede noi ci salviamo allora quando è che avviene questo dono della fede questo dono della fede viene da un sacramento del bambesimo che è il più grande di tutti i sacramenti anche se ovviamente il cuore di tutti i sacramenti è l'ucalistia perché è il più grande è il più grande perché vorrei dire il più grande è il più necessario è il più necessario perché è la porta di tutti i sacramenti e perché comunque sia attraverso il sacramento del bambesimo ci viene data la fede infatti quando i genitori con il patrino e la madrina portano il bambino alla diciamo così alla fonte battesimale il sacerdote dici cosa chiedete grazie